Dire Terre di Siena si sa significa far rima, nonostante i problemi che ci sono, ma chi di questi tempi non ne ha con eccellenza in tanti settori. Il primo che viene in mente è forse quello del buon mangiare e del buon bere, seguito a ruota, però praticamente in scia o magari anche pronta al sorpasso dalle tante possibilità culturali. In questo campo indiscusso attore e protagonista si conferma essere il Museo Civico di Montepulciano, che dopo la grande mostra dei Macchiaioli non ha perso lo slancio acquisito e continua a sfornare eventi di sicuro richiamo. Ultimo nell'ordine, la mostra, una porta sull'aldilà dal mondo egizio agli etruschi, dove ha fatto bella mostra di sé l'imponente porta in travertino acquisita di recente dal Museo Poliziano. L'evento ha fatto parte della rassegna Archeofest, un'occasione, secondo l'assessore Franco Rossi, veramente irrinunciabile. L'occasione dell'Archeofest, dopo l'acquisto della porta che avevamo fatto l'altro anno, era troppo agliotta per perderla, dovevamo valorizzare in qualche modo questa porta. Mi pare che la scelta di ragionare del senso della porta nel mondo etrusco e le origini di questa tradizione sia una cosa sicuramente importante. È una chicca che si colloca all'interno del nostro museo. Montepulciano continua a scommettere sulla cultura, considerandola vero valore aggiunto del nostro territorio. E sembra proprio, visti i risultati ottenuti nello scorso anno, che il cavallo scelto sia quello vincente. Abbiamo segni positivi su tutti i fronti. Questo non deve farci stare tranquilli, evidentemente. Perché, come dico sempre, anche in una situazione come questa, di positività, testa bassa, pedalare e continuare a fare quella serie di eventi che ci permettano di rimanere al centro dell'attenzione e di dare un'offerta di qualità ai nostri ospiti a Montepulciano.